Osservando i ritratti della regina, anche se è molto composta, che poi anche il fatto di essere composta mi fa comprendere tutta la sua forza e la consapevolezza che ha del suo ruolo. Nessuno ti coglie alla sprovvista, esattamente come nei servizi fotografici normali. Ogni cosa viene calcolata. Eppure, da modella, penso che non sia sufficiente essere truccate e avere i capelli sistemati. Bisogna avere un pensiero, perché è quello che il fotografo deve cogliere. Mi vengono in mente dei ritratti che sono rimasti vivi nel tempo perché rappresentano un momento storico. E ovviamente, per quanto riguarda la famiglia reale, i momenti in cui vengono organizzate le varie parate o i matrimoni, hanno tutti un senso storico. È quello l'obiettivo.